PAPI CONTRO ELECTROIDANCE Ragazzi siete pronti? Le scarpe ho vincido le prese, sai? Vale, voglio anch'io veramente pronta Sono molto vitamina C Sì, sì PAPI CONTRO ELECTRO 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 Sì, si riporti PAPI CONTRO ELECTRO 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 C parts of the game Special con legume athlon DKE Grazie a tutti. 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 No, non sono così carini i giudici, tutti qua messi insieme, eh? Una foto, non la vogliamo fare, dai, facciamo io una foto, dai, dai, facciamo io una foto, dai, dai, facciamo io una foto, dai, facciamo io una foto, dai. Siete benvenuti carini? Chi sei? Bene, spostati. Ok, giudici, un'altro. Uno Quindi ancora un'entrata Uno, uno Mario ha votato Nico E... Prozzi Vabbè, se è, vieni tu, scuola, non lo so Ok, date il tempo a pizzi Sei già pronti, pizzi Sì, vieni tu, scuola, non lo so Sì, vieni tu, scuola, non lo so Sì, vieni tu, scuola, non lo so Vieni tu, scuola, non lo so Sì, vieni tu, scuola, non lo so Magari una spalla laser ragazzi